cari diavoli rossiunieri egli da proprio così l'altro giorno mi stavo a guardare interlazio dei coppitalia quando nell'intervallo me so arzato e so visto tutto nero so pensato vuoi vedere che me gli tagliò la pressione ma vanno ero visto nero perché lo futuro dell'inter era proprio nero e infatti hanno perso da uno con demerito ed è proprio in questa circostanza che si sono guadagnati l'appellativo di perdazzurri porca miseria